Una mazzanidea che creerà problemi di personalità? Strani oggetti che volano per finire con un telaio incredibile, innovativo, domani un video più fazzesco, un video più folle mai realizzato Ok ragazzi avete visto il promo è finito e fatemi sapere cosa ne pensate, ho cercato di fare un video veramente particolare Ci ho messo il cuore per realizzarlo perché ve lo meritate e spero di aver fatto un video divertente da vedere, un video intrattenitivo, solo proprio intrattenitivo E ragazzi dai aspetto che domani leggeremo un video su questo video e mi raccomando guardate, condividetelo perché ci ho messo veramente l'anima e il cuore per realizzare questo video E credo che un canale di fattinaggio possa essere un canale divertente che possa strappare una risata a chi guarda i video Oltre a essere utile per le informazioni, ragazzi io vi adoro perché siete veramente gentili anche se in live siete sempre gentili E quindi davvero siete un pubblico speciale e speravo con questo video di dimostrarvelo Beh ragazzi che dire, usciamo un sacco di video, aumenta un sacco di cose fighe da fare quindi vi aspetto numerosi Iscrivetevi e condividete il video che uscirà domani perché è veramente importante perché penso che sia un video pazzesco, un video veramente fenomenale E fatemi sapere se anche voi ritrovate il video domani figo o se ho fatto un flop Sono proprio curioso di saperlo, mi raccomando aspetto la tua opinione perché è molto importante per me Un bacione, ciao e mi raccomando domani vai a vedere il video altrimenti Ma rabbio, ma rabbio, ma rabbio, ma rabbio